il cesta skin dovevo vedere nooo nooo io voglio questa maschera è fighissima ma pure il vestito è fighissimo l'arma non me ne frego un cazzo che ficata ragazze le compriamo? dai fatto ho preso i punti eh vediamo se adesso riusciamo a stare in partita comunque sperai che personalizzo così perchè dall'altra partita non è proprio crashata raga ah che figata eh ma è fighissimo il trapper così raga eh no è troppo figo no è troppo figo mi piace un buon sacco raga mi piace un bordello così chissà se ci sta bene pure la maschera questa qui che avevo già si ci sta bene figo figo penso tutti i punti che avevo tipo vai andiamo a fare una partita da killer proviamo di nuovo però tolgo il memento mettiamo il gioco che da sempre fastidio ai sopravvissuti spera che lasciamo così vai questo è un tentativo è per vedere se ricrascio intanto mentre aspetto che trovi la partita contro una cosa sul menu della play devo vedere chi ci sta in cima delle live con che giocano ovviamente solo fortnite merda di ciò che è ok non so se è un premade non ne ho una minima idea che figo è il trapper così c'è anche la skin di mag ma tanto mag io non la uso poi c'è il trapper sto iniziando a usarlo ma tutti i david tutti i dead hard e tutti i dead hardino in realtà è che non potete usarlo se finita nella mia trappola del dead hard io so due che vogliono switchare mi sa no non mi dobbiamo switchare boh ok però adesso devo stare adesso tutti uguali no c'è uno che ha i gist diversi the game ma quittate tutti adesso ma fa peggiore where he survive let's go let's go let's go my loading screen ok No, 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 no. Ficcante Che figo, che figo che sono Ma ora c'è uno con no miler Cazzi sua C'è il dead hard automatico C'è il dead hard a prescindere Fino all'inizio Cazzo Ok Cazzo è proprio suo C'è un cazzo Oh che cazzo Ok I morimi di dbd sono veramente Ah vediamo un attimino Come fai a uscire Ok Ok E uno Sono sul pallet Ora 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 E' troppo tardi Oh quanto è bello il basement del gioco Per questo ho commesso il gioco Eh raga Miglior basement di tutto Di tutto dbd C'è uno che sta prendo una cassa Mi sa il piano di sopra Cazzo Cazzo Mi fate un po' pena sinceramente Mi fate un po' pena sinceramente Cazzo 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 Bravo Adesso E adesso che l'hai tirato scusi No fammi capire Allora che l'hai tirato Vabbè easy win Ragazzi Non so perchè non giocherò così male Ok 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 Easy Ok 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 Questa sfiglia spaventati Sto dicendo questo Miraga ma che cazzo di problemi avevi Ok Ok Che vape son buone Qua son piccoletto se lo faccio quanto cazzo è baggata sta applicazione per il cellulare di playstation che cazzo è vabbè non funziona vabbè comunque easy win adesso vedo raga che stanchezza un po' di tappare so vabbiamo Che cazzo fa sto ci vuole? Facciamo un altro Un piano di problemi alcuni Giocatore intendo Un piano di problemi alcuni Che figlio che il strapper Dato tutti i punti che avevo Un premade da 4 Non medica possibile insta kill E una cassetta Tap prestigio 3 mi sembra Ma bene ragazzi certo ho tutto il 9 Creda magari mi scappano tutti Sono fighe entrambe le skin Le vedi subito Si ma intanto ho fatto 4 su 4 Su entrambi col trapper Il trapper è bellissimo Tutto sommato ragazzi Però devi giocartelo come lo gioco io Io non piazzo le trappole in giro Io ogni tanto le piazzo Però più che altro attiro uno nella trappola Oppure le piazzo tutte attorno all'unico Che ho preso E tutti per provare ad andare a prenderlo Se da picchiano in culo tantissimo E' stupendo raga Cosa di magnifico A me non sembra di aver messo addon per questa map Non fa niente dai Vediamo un po' Cosa riesco a combinare Probabilmente mi già lasciano in massa tantissimo Cosa riesco a combinare Ciao Ciao Dette qui il top Guarda di tutti che corono Tutti che corono Il fatto che sono un pre-made E' possibile che si vengono Stavola di scendere Siamo ritardati Eh ma qua Ho poca possibilità di trappole Ah qua c'era un sacco di gente Adesso lui dirà Mi ha messo una trappola lì Quindi c'è pochissima possibilità Tanto vale che le metto Su dei punti focali Della partita Una cosa veramente buona Sarebbe se ci sono dei ganci sotto Mi sei liberato da solo Che cazzo l'ho ritato Sparita per me Ah no Col cazzo ti sei liberato da sopra Non l'ho vista connections Sarebbe Un'altra Grazie a tutti.